Venditalia 2024 continua, siamo allo stand di Ricambi Gardosi SRL e ci troviamo in compagnia del suo titolare Massimiliano Gardosi che saluto e ringrazio per aver interrotto il suo lavoro di pubbliche relazioni con tutti coloro che sono qui allo stand per presentare le sue novità 2024. Ciao Fabio, un saluto a tutti e ben trovato come un classico appuntamento per tutte le fiere. Un appuntamento che si ripete e che in questo caso vi vede protagonisti per le tante novità presentate, da dove iniziamo? Iniziamo sicuramente dai ricambi, Ricambi Gardosi ovviamente da 60 anni opera nel settore della ricambistica per le macchine a caffè professionali, da 30 anni siamo presenti nel campo dell'OCS per cui già da diversi anni siamo attivi in questo mercato con un ampio catalogo per i ricambi delle macchine OCS, e cialde capsule, direi con ottimi risultati, con ottimi trend di crescita e quest'anno presentiamo il nuovo catalogo dedicato proprio ai distributori automatici della linea vending. È un inizio per una divisione che dovrebbe rappresentare un ottimo canale di sviluppo. Per cosa si contraddistingue questo catalogo? Come tutti gli altri cataloghi della Ricambi Gardosi cerchiamo non solo di presentarci come un normale fornitore di componenti che si possono trovare liberamente sul mercato, ma diamo una struttura dietro di servizio dove diamo anche tutte le informazioni sulla tipologia del ricambio, per cui macchina, modello, applicazione, per cui ci presentiamo come una guida per il nostro potenziale cliente. Però non finisce qui. No, oltre al catalogo del vending, di tutta la ricambistica dei principali marchi, presentiamo due novità che abbiamo già presentato anche nelle scorse fiere. Uno è uno strumento di misura al coffee analyzer che è dedicato più al settore professionale, dove è uno strumento digitale che permette il controllo e il rilevamento dei parametri, temperatura e pressione portata, delle macchine da barra e la possibilità di esportare i dati su un dispositivo PC per poterli poi far analizzare. L'altra grossa novità è una collaborazione che abbiamo con degli amici, è la Pamba in moca, una moca che permette l'estrazione, con la pressione ad aria e non più in temperatura, dell'espresso per la moca. Questo ci permette di fare delle profilazioni a temperature prescelte, controllabile grazie ad una striscia termometrica e questo possiamo, per cui invece di utilizzare il classico espresso da moca, utilizzare anche dei mono origini, caffè molto più aromatici e addirittura possiamo fare anche delle estrazioni a freddo, per cui è una moca personalizzata a mone del caffè, per ricambi gardosi e la presentiamo in un paio di versioni. Un oggetto molto interessante per poter portare la qualità dell'estrazione anche nella moca. Bellissima, solo a vedere, sia quella che avete visto proprio negli ultimi secondi. Massimiliano, per entrare in contatto con voi, per chi vuole andare a guardare tutte le altre cose di cui non hai parlato, qual è l'indirizzo internet a cui collegarsi? RicambiGardosi.it, tutte le informazioni sono consultabili, per avere poi dopo la consultazione anche dei prezzi basta fare la registrazione e direi che siete tutti benvenuti. Massimiliano Gardosi, amministratore di Ricambi Gardosi SRL, grazie. Grazie a te Fabio e grazie a tutti, è sempre un piacere rincontrarvi. Una festa, una fiera tra amici. Grazie mille.